Se a Prato in casa PD si è ancora lontani dal trovare la quadra intorno al nome del candidato sindaco con i veti incrociati che fanno persistere la condizione di stallo, a Montemurlo il centro-sinistra viaggia già spedito in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Va infatti dalla sinistra al terzo polo senza tralasciare le forze civiche la ricca coalizione a sostegno di Simone Calamai, candidato al bis per la poltrona di sindaco di Montemurlo. E' anche un segnale di quello che è il lavoro di questi cinque anni, nei quali ovviamente abbiamo sempre fatto di tutto per dare spazi alle scelte più importanti, a quelle che erano le istanze di tutta la coalizione che mi aveva già sostenuto cinque anni fa. Oltre al Partito Democratico ne fanno parte Alleanza Verde-Sinistra, che riunisce Europa Verde e Sinistra Italiana, è possibile, una lista che raggruppa le forze riformiste, Italia Viva, Azione, Più Europa e PSI, Demos e la lista civica Amare Montemurlo. La presentazione è avvenuta stamattina a Villa Scarfantoni. Quella che presentiamo stamattina è una coalizione che è il frutto del lavoro di questi cinque anni, perché sono tutte forze politiche con le quali in questi anni, al di là della rappresentanza in Consiglio Comunale, abbiamo governato insieme il nostro territorio, sono state partecipi e coinvolti in quelle che sono state le scelte strategiche di governo della città. Un occhio di riguardo alla nostra montagna, con tutto quello che è successo dal punto di vista idrologico e soprattutto alla sanità e al sociale. Riteniamo che il nostro progetto politico, con Azione, Più Europa e PSI, sia l'unico che può trovare risconto su questo territorio.